E cumò spazi alla rubrica Novis dal Mond. La plui part dalla rubrica di Vueie dedicade all'Australie. S'cominciamo dal video messaggio che è arrivato di bande di Federico Martin, segretario del Fogolar Furlan di Melbourne e referente di tutti i voti, Fogolars Australians. Sì, buona sera e salve a tutti i furlanci dal mondo che sono in Ascolto. Prendi tutti congratulazioni a Telefriul e alla regione Friul-Vineggia Giulia e anche all'Infriul dal Mond e al loro Presidente Dolores Basso per questa bella iniziative che così vengono la possibilità di poter collegarsi tramite questo programma Novis dal Mond. Io sono Federico Martin, sono nato a Sedean di Udin, classe 49 e come referente della associazione dei Fogolars Furlans d'Australia, la che io vivi dal 1959. Io sono anche il segretario del Fogolar Furlan di Melbourne, che è che stanno a fare 65 anni dalla sua fondazione. In tutta l'Australia ho vinto tutti i Fogolars che io rappresento al Fogolar all'interfriuli del mondo. L'Australia è grande e in questi Fogolars sono spaz per tutto il continente come in te città di Perth, Adelaide, Melbourne, Canberra, Sydney e South Wales, Brisbane e Dimbola. Ossim a distanze di miliardi e miliardi di chilometri lungo dall'altri. Il Fogolar Furlan più vecchio d'Australia è quello di Brisbane, che stanno a fare 66 anni. Allora augurungo anche a loro. Come di sicuri sapete, la roba più dura è che di tini doni e interessate interculture furlane, in questi giovani, in questi fisi, in questi nevogos. Ho vinto qualche idea per poter fare altro come il progetto dei miei nonni, o un giornalato che pubblicino, che in Australia quasi clame sotto la nappe. E potremmo magari discutere queste cose a una prossima puntata. Per intanto, mandi di cura e buon lavoro a tutti. Fuarci friù e fuarci udineggi. Mandi Federico Martin, Australia. Resti in Australia, par fevelà dal chef Joel Valvasori di Divignince Furlane, Cala vinti il titolo di Chef of the Year 2021, mettuti in pali dalla West Australian Good Food Guide. La fondi ispirazione professionale di Joel è Lenone Luigia Lulù Valvasori, partita dal 1952 di Chiasarse e emigrata in Austriale, che di Simpri, insieme, conduta la soffa me e i miei dal Fogolar Furlan di Perth, di là che in questo momento ha il presidente Zeno Bolzico. Le meravigliose tradizioni culinarie dalla None assono il cuore e l'anime da le ricette, qualche volta rivisitati in clave moderne, preparati al DDV dal nevo dal suo ristorante con enoteche Lulù la delizia, vieta aperta dal 2016, specializzata dalla paste fresche di prime qualità, dalla cusine mediterranea e dai plasei di gole Furlans. E anche dal non dal suo local, Joel ha voluto fare un regalo alla None. Lulù la delizia, l'edifat il stranon affettuos dat dai nevoz alla None, e metuta dun col non dal paese di Divignince, chiasarse dalla delizie. Joel ha quasi vinciance di esperience, tanto che chef ha lavorato a Melbourne e a Perth, ma l'ha passata anche un po' di tempo in Friul, praticando la sua attività dai ristoranti dalla zona. E a proposi di cusine, si intinkumò Tiziana Bellini, protagoniste dalla trasmission di Telefriuli, Messede e che si tacche. Li sos videoricetti sanno un evore di success tra i Furlans Residenz in Region e Talforest. Cavueli metti gli smans in paste per preparare i plaz dalla tradizione dal territorio. Mandi, ho sei Tiziana Bellini. Per cui che non mi conoscono, ho sei su Telefriuli con una trasmission che si clana Messede e che si tacche. Daca in queste cusine, ho quei in plaz Furlans e ho passato una fevelade con un ospite. Ma poi ho il gusto di contare semmo che in Assude e Messede e si tacche. Ho avuto molto di vivere lontano dal Friul e mi veniva nostalgie dei nostri profumi, dei sabori delle nostre tavole. Ma stant lontano, non cattavi qualche video che mi insegnassimo di fare qualche plaz. Così dal 2020, quando ero dal lockdown, all'incapitate mi domandavim i miei amici lontani dal Friul qualche ricetta. Allora per aiutare o parlare in quintri a queste domande, ho avuto una pagina Facebook che è almeno non e raccogliere le ricette Furlans. Però dopo ho pensato che forse sarebbe stato meglio per qualche videoricetta. E così, con Telefriuli ho deciso di fare questa trasmission per Furlans che sono dove? A torpa Italia o anche a torpa al mondo che così e poi in viaggi c'è molto che si sia ronti al son, c'è molto che si vuole un fricco o c'è molto che si fa sul brutto brustulare. E così che io in a sud le trasmissioni mi sede che si tacche che le vediamo ogni sabato su Telefriuli. E speriamo che vi piacere. Se avete qualche suggerimento o qualche gole di qualche ricetta particolare o potete scrivermi su Facebook ma anche su Instagram. ma mandi e t'iniesi conti. E anche per usgnut alle dut si vio d'indomani. Mandi! Grazie!